Appassionati di smartphone, di nuovo qui sul mio canale, grazie per essere in tanti ogni giorno a supportarmi Oggi vi parlo del Realme C63 Che è una piccolissima evoluzione del C61 che avete già visto sul mio canale pochi giorni fa Quindi non ho capito il senso di far uscire due smartphone praticamente quasi gemelli Non ho trovato differenze tranne sotto un aspetto Ve ne parlo nel video, mettetevi comodi, si parte con la sua recensione completa Confezione di vendita Realme C63, cosa troviamo all'interno? Coverina trasparente, cavetto di ricarica manualistica, spilla per estrarre il vano della sim Quindi manca cosa? Manca l'adattatore perché lui supporta una ricarica da 45 watt proprio come il fratello C61 Non a caso l'ho recensito pochi giorni fa ed è incredibile come questi smartphone si somiglino Innanzitutto parte posteriore sempre plastica ma similpelle Molto bella a mio avviso, molto più bella di questa Sempre una mega isola con le tre fotocamere che non sono tre fotocamere In sostanza ne abbiamo solo una da 50 megapixel e una linea fresca, snella, sottile 191 grammi contro i 188 del modello in plastica Se lo comprirete in plastica stesso peso, quindi non cambia assolutamente niente Pulsante di accensione con impronta digitale Il bilanciere in alto niente, a sinistra il carrellino, quindi slot triplo, due sim più espansione In basso troviamo il jack cuffie con l'altoparlante E vi faccio vedere anche il C61, è incredibile, sono praticamente simmetrici Quindi anche le cover sono le stesse Guardate anche lo blog delle fotocamere A mio avviso proprio hanno realizzato lo stesso corpo telefono Pellicolina è preapplicata sullo schermo Quindi non avrete bisogno di pagarne una extra Vi faccio vedere il C61 a confronto Eccolo qua Telefoni uguali Abbiamo l'NFC su tutti e due i dispositivi Quindi nemmeno a dire che l'NFC è presente in uno rispetto all'altro E l'utilizzo della rete è sempre 4G Quindi non cambia nulla nemmeno alla banda Stessa versione software addirittura Quindi numero build 14A40 14A40 Banda base finisce con P16 E versione Android 14 Non cambia praticamente nulla Stesso processore Anche qua troviamo l'Unisoc T612 L'unico forse cambiamento lo noto nella RAM Perché il C61 ha 6GB di RAM più 12 espansione virtuale Qui ne troviamo 8 nativi più 16 di espansione virtuale Quindi 24GB potenziali su questo C63 Il menu è praticamente lo stesso Quindi mi soffermerei sulle funzioni speciali Mini capsula presente Pulsante dinamico Riduzione chiamata con l'intelligenza artificiale Identici anche diciamo i trucchetti con il software Quindi in chiamata lui riduce il rumore di sottofondo Per una conversazione un po' più pulita Il pulsante dinamico con tocco o triplo tocco O vado su e vado giù Vado a regolare il volume Quindi posso andare su Posso andare giù Abbasso il volume Lo tocco senza premerlo Vado a Ho selezionato la possibilità di cambiare la suoneria Quindi suoneria o vibrazione Ve lo faccio vedere qua vedete Oppure il doppio tocco attiva un'applicazione Io ho scelto la fotocamera E poi il ritorno anche in questo C63 della mini capsula Che diventa un po' più ricca di possibilità Quindi ve la faccio vedere anche qua Stesse possibilità del C61 Quindi una mini capsula che lavora bene Con le previsioni meteo di giornata Con la batteria scarica L'avviso quindi di metterlo in carica Con la riproduzione musicale E adesso vi parlo di audio Come sul modello C61 l'audio è monopompa Fino al 200% Quindi il volume può essere aumentato Eccolo qua Andiamo a pomparlo Al 200% E adesso vi faccio vedere Che se io metto l'app in background Comunque conservo la mini capsula Eccola qua La mini capsula che ci legge tutto della canzone A che minuto siamo Il titolo eccetera eccetera Stesso display Quindi display 6.74 pollici HD plus 560 nit di picco Quindi sotto al sole non si vede benissimo La risoluzione non è sparatissima HD plus E comunque dai Per una prima fascia di prezzo Va più che bene Batteria identica 5000 mAh Stessa potenza di assorbimento 45 watt da 0 a 100 in 30 minuti Serve ovviamente l'adattatore da 45 watt Che non trovate in confezione Quindi magari vi do il link per prenderlo a parte E una batteria che dura tantissimo Ve lo faccio vedere nelle impostazioni Concludo addirittura la prima giornata Con il 74% ancora residuo Quindi meno di 3 ore di schermo 2 ore e mezzo Vabbè non l'ho usato molto Lo scarico completamente Con 8 ore di display Che siano paragonabilissimi ragazzi Ce lo dice anche Antutu Benchmark Che ci dà un totale di 263.000 Contro 267.000 Forse quel briciolo di RAM in più serve E per quanto riguarda Geekbench 420 435 1470 1486 Per quanto riguarda la velocità di calcolo Beh che vi devo dire Secondo me siamo alla pari Quindi questo è il Chrome In versione desktop Su entrambi i dispositivi Vedete vengono calcolati Praticamente insieme Pinch uguale 90Hz su entrambi i dispositivi Apertura praticamente identica La vibrazione durante la digitazione È zanzarosa Anche sul C63 Vi faccio vedere il Facebook Eccolo qua Vi porto sempre su Offerte Smart Italia Su entrambi i dispositivi Per andare a vedervi Tutte le offerte Del giorno Riguarda antitecnologie E non solo Di Amazon Di eBay Di AliExpress Insomma Tanti fornitori Tanti ottimi prezzi Ad esempio Ad esempio cliccando a caso Così vedete anche la velocità di apertura Z Flip 6 639 euro Quindi venite a trovarmi su Facebook E su Telegram Per questo gruppo Molto molto fornito Andiamo su Instagram Vediamo un po' Come si comportano Praticamente Stesso Modo di interpretazione Velocità Rimpaginamento Eccetera eccetera Vi faccio vedere anche L'apertura di Unreal Che avviene Allo stesso modo E poi Possiamo aprire La tastiera Eccola qua Tastiera identica Ovviamente su entrambi I dispositivi Si digita bene Quindi una volta tolta La vibrazione Secondo me Avete risolto Qualche laghettino Lo troviamo sempre Ovviamente E allora Andiamo a cercare Di capirci di più Con Asphalt Vado a premere su Gioca Su entrambi i dispositivi Adesso prendo il C63 Perché voglio farvi vedere meglio Il dettaglio Display Insomma Se è bello Se è brutto Lo hanno aperto Allo stesso momento Quindi non c'entra nemmeno Il discorso RAM Magari la RAM Ve la ritrovate Nel futuro Quando lo smartphone Sarà Bello Pieno Come vi ho detto Sul C61 Qualche pixelata Di troppo A livello grafico Però Non è un dramma Non è un dramma Quindi Per chi non ha Grandi pretese C'è una buona Giocabilità Magari visivamente Si va a perdere Si va a perdere Un pochino Detto questo Vi parlo anche Di Parte telefonica Perché volume 200% audio mono Ve l'ho già detto Lui Ha un sensore Di prossimità Fisico Quindi non ci sono problemi Per passaggio Capsula auricolare O Altoparlante Per le notifiche Whatsapp Telegram A livello di audio E si sente bene Magari Non è un microfono Super performante Però dai Ci siamo I suoi dispositivi Anche su questa fascia Verranno seguiti A livello di Fluidità Per almeno 4 anni Quindi una batteria Che dovrebbe tenere Nel tempo E un Telefono Che nasce In questo modo E viene portato A funzionare In questo modo Per almeno 4 anni Finiamo col discorso Fotocamera Ragazzi HDR Foto Video Anche lì Video Hanno una risoluzione Massima Di HD 1080p 30 frame Per secondo Foto normale Foto ritratto 50 megapixel Puri Che bloccano La possibilità Di zoom E nella sezione Altro Queste Poche cose Qua Quindi Un software Che non è ricchissimo Manca la cam Dell'obiettivo Manca la Wide Insomma Scattate solo Con la 50 Principale E come vi ho detto Sul C61 I risultati sono buoni Ovviamente Solo Di giorno Di notte Le foto sono comunque Accettabili Per essere riguardate Sullo smartphone Ma niente di più Non c'è una qualità Per poterle Guardare su un computer Ingrandirle Stamparle Insomma Di notte Ha i suoi limiti Di giorno Ci può anche stare Se avete una buona luce Vi toglierete qualche soddisfazione I selfie Nella media Sufficienti Di giorno Non fateli la sera Non fatevi foto Quando cala la luce Appassionati Siamo giunti Alla fine del video Quanto costa Realme Il C63 Lo trovate ad oggi Online Guardando anche sotto A rettangolo del video Perché tanto ci sarà Il miglior prezzo Intorno ai 160 euro Detto questo Il C61 Lo trovate Intorno ai 140 euro Quindi Io direi Di basare La scelta Su due aspetti I colori disponibili Quindi Questo colore Molto bellino Con la finta pelle Questo colore Con questa trama Un po' strana E la ram Perché 20 euro Vi cambiano In soldoni La ram 6 giga 8 giga Con espansione Relativa Non ho trovato Altre differenze Stesso funzionamento Stesse fotografie Stesso comportamento A livello di batteria Anche se C63 Mi è durato Un po' Di più Fatemi sapere Quello che ne pensate Di C63 E C61 Spero che il video Vi sia piaciuto Come al solito Fermi Non andate via Lasciate un bel like Al video Per supportarmi Perché a voi Non costa nulla Per me è tanto Essere supportato In modo tale Che il canale Possa crescere Quindi like E spolliciare E iscrizione Al video Per rivedermi Magari Nei prossimi video Nelle prossime recensioni Grazie per avermi seguito Continuate a seguire Anche offerte Smart Italia Su Telegram E su Facebook E se vi piace Fare shopping online Io me ne vado Il prossimo video È quasi ready Alla prossima Ciao